Produrre attività produttive e la storia, la storia moderna e la storia antica che si incrociano anche alla Fiera di San Marco. Un evento importante è quello della Fiera di San Marco che ha una storia nel territorio regionale e oggi raccoglie tanti operatori del settore primario e anche l'attenzione di tanti sardi, oggi la partecipazione è davvero notevole. Per me è un grande privilegio poter partecipare a questo appuntamento e poter avere un confronto diretto con gli operatori del settore primario della Sardegna. È un'occasione di confronto, di dialogo ma anche di conoscenza di quelle che sono le attività più importanti della nostra regione. È un momento di ascolto, ascoltare per poter poi rispondere alle esigenze di un territorio. Assolutamente sì, la parte dell'ascolto, del confronto proprio con chi lavora, chi è impegnato nell'attività più difficile, più nobile e più antica della nostra regione per dare quelle risposte e quei riscontri che si attendono. Il nostro impegno è massimo e questa è l'occasione appunto per raccogliere istanze e poter condividere anche buone proposte.